Ciao, io sono Mattia, bentornato sul mio canale YouTube. Oggi voglio mostrarti dei semplici esercizi per riuscire a rassodare e tonificare le tue braccia. Ti ricordo che su questo canale troverai essenzialmente tutto quello che riguarda l'allenamento libero, come potersi tenere in forma e in salute in maniera libera, senza vincoli, senza per forza dover andare in palestra o senza per forza allenarsi a casa con dell'attrezzatura. Potrai allenarti liberamente. Qua trovate anche quelli che sono dei consigli alimentari, tutto quello che riguarda una corretta postura e in generale come vivere in salute e vivere una vita al 100%. Se l'argomento ti interessa ti invito ad iscriverti in alto a sinistra. Oggi come ti dicevo ti mostro questi 5 esercizi. Questi 5 esercizi potrai farli veramente ovunque. Ti basterò anche solo 2 bottiglie d'acqua e una sedia o un qualsiasi appoggio. Per allenarti al meglio ti consiglio di utilizzare un'applicazione timer. Puoi scaricarla gratuitamente sul tuo telefono. Io di solito uso SmartWord. Qua sotto ti metto il link per scaricarla. È un'applicazione molto comoda, però come ti ho detto va bene qualsiasi altra applicazione. Allora quello che andrei a fare è un circuito di lavoro dove ad ogni stazione imposti 20 secondi. 20 secondi e andrei a fare in particolare il primo esercizio che puoi farlo con due bottiglie d'acqua, un curl e una distensione verso l'alto. Ti mostro l'esercizio come vedi. Ti posizioni i piedi larghezza a spalle, impugni le bottiglie e vai a fare un curl e una distensione verso l'alto. Dopodiché passi a fare dip, in questo caso io uso una sedia ma puoi usare anche una panchina o qualsiasi cosa. Questo esercizio ti servirà ad andare a lavorare i precipiti, i muscoli posteriori delle braccia. Ti posizioni con le mani sulla sedia, sulla panchina e vai a scendere fino a portare le spalle all'altezza del gomito. Ripeti per 20 secondi. Successivamente passi a fare le alzate laterali. Fanno bene due bottiglie d'acqua o qualsiasi cosa che abbia un buon peso e vai a fare anche qui 20 secondi. Porti la bottiglia fino all'altezza della spalla, sali verso l'alto. Poi successivamente vai a fare un kickback, anche qui un lavoro per il precipite, per andare a tonificarlo. Ti metti i piedi di larghezza a spalle, fletti in avanti il busto, porti i gomiti all'altezza delle costole e distendi indietro le bottiglie d'acqua o il peso che hai in mano. Anche qui vai ad eseguire 20 secondi e alla fine vai ad eseguire le estensioni sopra la testa. Utilizzando sempre due bottiglie o qui va bene anche se hai uno zaino. L'importante è che i gomiti siano bloccati verso l'alto. Scendi con le mani fino a dietro la testa, espiri e vai ad estendere le braccia. Come ti dicevo questo circuito è veramente molto breve. Puoi allenare al meglio le tue braccia in soli 10-12 minuti. Andrai a fare, come ti dicevo, ogni estensione per 20 secondi. Tra un esercito e l'altro recuperi 5-10 secondi e vai a fare 3-4 giri in totale, recuperando un minuto tra un circuito e l'altro. Bene, anche per oggi è tutto. Questa scheda è indicata soprattutto per le donne, ma va benissimo anche se sei un uomo. Ti basterà aumentare leggermente i pesi. Infatti non ci sono esercizi specifici solo per donna o solo per uomo. Esiste un programma di allenamento magari più specifico per l'uomo piuttosto che per la donna. Qua sul mio canale puoi trovare qualsiasi cosa inerente all'allenamento, alimentazione e buona postura. Ti allenerai in libertà, quindi tutto quello che hai da fare è iscriviti al canale. Se hai dubbi o domande lascia un commento qua sotto e sarò veramente felice di risponderti. Io ti auguro buon allenamento, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Mattia!